Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. E morta, a 92 anni, l'attrice Antonella Lualdi, splendida signora del cinema italiano. La notizia è stata data dal fratello Carlo all'agenzia di stampa ANSA. La Lualdi era ricoverata in un ospedale fuori Roma. Popolarissima negli anni 50 e 60, aveva sposato il collega Franco Interlenghi cominciando un lungo sodalizio anche professionale. Aveva recitato per Ettore Scola, con Vittorio Gasman e in tanti film a cominciare da Miracolo a Bigiù di Luigi Giacchino che l'aveva lanciata nel dopoguerra. Era nata a Beirut in Libano il 6 luglio 1931. Negli anni 70, appare sexy sull'edizione italiana di Playboy nel giugno 1979. Ha anche una esperienza come cantante incidendo il 45 giri il sogno, con arrangiamenti e direzione d'orchestra di Stelvio Cipriani. Negli anni 82 torna ad essere diretta da Lattuada in Una spina nel cuore. E nel 92 è in Per amore o per amicizia di Paolo Poeti. Recita negli anni 90 e poi fino al 2007 nella serie francese Il commissario Cordier. L'ultimo film è La bella società, regia di Jean-Paulo Cugno, 2009. Nel 2018 ha pubblicato la sua autobiografia, intitolata Io Antonella amata da Franco. Lascia le due figlie, avute da Interlenghi, Antonella. Anche lei attrice e stella, che ha partecipato al film Top Crack, 1967. 1967 158